... Michele Placido, ospite d'eccezione in questa serata importante di premiazione dove si celebra la fotografia che è l'anima, la luce, l'essenza del cinema. Sì, soprattutto quando si premia la luce, si premia la fotografia come lei accennava e si premia appunto un grande come di Venanzio che è stato forse la guida del cinema italiano nel dopoguerra fino ad oggi e ancora oggi è di una grande contemporaneità ma anche di una grande verità perché la sua fotografia era soprattutto questa. Rivelare la luce per dare la verità. Grazie.